In questa lezione vedremo uno studio di Julio Sagreras tratto dal metodo delle prime lezioni di chitarra. Questo studio è basato sugli accordi, ossia sulla esecuzione simultanea di quattro note. Queste quattro note devono rappresentare un blocco compatto. Il tempo è di quattro quarti e la figurazione ritmica preponderante è quella delle semi-minime. Di conseguenza ogni accordo è di semi-minime e occuperà un tempo. Nella prossima lezione vedremo un altro studio di Julio Sagreras. Grazie per avermi seguito fino a qui e non dimenticate di iscrivermi al mio canale per seguire le prossime lezioni. Ciao a tutti, oggi affronteremo l'argomento delle scale. Vi parlerò delle scale diadoniche maggiori e minori. Vi mostrerò dei modelli.